Con questa neve che ha fatto in questi giorni ci siamo vestiti di bianco per le grandi occasioni, ma la cosa più bella deve ancora venire e quindi vi invito ufficialmente voi come televisione e i telespettatori mercoledì 16 gennaio alle ore 11 inaugureremo le nuove piste da sci alla presenza di Cristian Ghedina. Diventeremo ancora più belli e ancora più importanti. Un'amministrazione del fare, un'amministrazione da tre anni come ci hanno detto i suoi cittadini che è stato lavorando molto bene. Io credo che per fare le cose bisogna avere tanta buona volontà, tanta passione, tanta fantasia e dedicarci tanto tempo. Questa richiesta di finanziamento è nata nel 2013 dalla Presidente dell'amministrazione comunale che ha avuto un finanziamento da parte della Regione Calabria con dei fondi europei. Erano dei fondi europei, i cosiddetti PISLI, che prevedevano la costruzione e la gestione degli impianti sportivi. Si è partecipato a questo bando, si è fatto un progetto concorso. La ditta che ha vinto, ha costruito in modo ottimale questi impianti e la voglio ringraziare pubblicamente, ora li sta gestendo con tanti sacrifici, ma questo, come dicevo prima, è un'ulteriore dimostrazione che anche da noi si può fare imprese, anche da noi si può fare buona amministrazione.